Amleto È cambiato Si vede tanto Trasformato Ma come fai a dirlo? Entro il fuori Capisco Noi avevamo un appuntamento Già Rosencrantz e Guildenstern sono morti Un pubblico Gary Oldman Tim Roth Richard Reignos Il mio nome è Guildenstern e lui è Rosencrantz Chiedo scusa, il suo nome è Guildenstern e io sono Rosencrantz Bisogna arrivare al punto in cui tutti quelli destinati a morire Muoiono Che ne sapete voi della morte? Per voi non è che è una tecnica da melodramma scadente Che non rende la morte credibile per nessuno Silenzio Buonanotte Rosencrantz e Guildenstern sono morti Un film di Tom Stoppard Leone d'oro alla 47esima mostra internazionale del cinema di Venezia Il film di Tom Stoppard Un film di Tom Stoppard Grazie a tutti.